musica sono molto cari, questi sono un po' sempre buonato non ha detto ora perché li miroccare mi sono chiamati un po' fermo e se ci senti magari di fare un don dove ogni giorno è inlenso vieni a fare un po' di tutto vieni 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 vuoi vieni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti